In Svizzera dati cinci ovres nucleares. Ellas produzessan var 40% della forza elettrica Svizzera. Las ovres hanno una permissione da managgi illimitada ed ascen funzionare o c'è dici che la senza giras. Su enter l'accident da Fukushima, han decidì il Cusell Federal ed il Parlamento di abbandonare pass per pass l'energia nucleare. In ad ascen pia vengir fabriciades nelle gine nuove ovres nucleares. Las ovres existentes restan in funzione o c'è dici che las corrisponden a las prescripzioni della segirezza. Ellas vengen serrades, appena che le s'enmeni a vellas. L'abbandon pass per pass fa parte della strategia d'energia 2050. La strategia d'energia 2050 promuva plinavant la forza elettrica Svizzera producida da energias regenerablas scola forza dall'aua, dal soleil, dal vento e la biomassa. Nus doain augmentar l'efficienza energetica ed uvrar da main energia. Er, l'iniziativa per l'abbandon dell'energia nucleare vuol scomandar quins construescia noves ovres nucleares. Plinavant pretenda ella da limitar la durata de las ovres existentes en funzione. Tenor l'iniziativa stuessen venir serrades las ovres nucleares Betznau in, edus e Mühleberg l'on 2017, Gösgen l'on 2024 e Leipstadt l'on 2029. Ella pretenda er che la politica d'energia traes da cinque ovres nucleares Svizzeras. Il deficit da forza eléctrica che quai c'agronas ne pudez bec venir remplaçà tras energias regenerablas. Il comité d'iniziativa pretenda l'abbandon programmada l'energia nucleara. El portas da pli segirezza per la populazion. Fukushima anumna da mainmusà che grefs accidents capitan adine poxpe. En cas din accident nuclear venisen contaminadas grandi parti della Svizzera. L'abbandon franass en l'avenir la producciun supplementara d'arument nuclear. L'energia atomara possia inserimplazzar con forza indigena dall'aua, dal soleil, dal vent e con biomassa. Ingea all'iniziativa garantiss la segirezza necessaria per investir a moda rentabla en las energias regenerablas. Il Cusell federal ed il Parlamento refusen l'iniziativa per quai cala aves par conseguenza calas ovres nucleares Svizzeras stuesen serrar en tutta furia. Per conseguenza stuesens importar da pli forza elèctrica dall'exteriur. Quella deriva savents da dovres nucleares ed ad ovres elèctricas acervun che ingresgeixen l'ambient. Imports pli gronds pon pli n'avant surchargiar la rait elèctrica e quai podes metter en privil il provvediment. Chia nus acceptaim l'iniziativa pretendessan els gestionaris de les ovres nucleares probablement grondes indemnitzacions de la Confederació per les investitions. Mi dar il provvediment dell'energia dovratemp. Con la strategia d'energia 2050 han instratat il Consello Federal ed il Parlament in abandon dell'energia nucleara che tenia pass con l'extension de les energies regenerables indigenes. Per questi motifs refusen il Consello Federal ed il Parlament l'iniziativa.